novelle per un anno il progetto di pirandello era quello di scrivere una novella per ogni giorno dell'anno per un totale di 365 racconti divisi in 24 volumi in realtà vengono pubblicati 15 volumi per un totale di 225 novelle 15 per ogni volume il titolo è significativo perché ci fa capire che esiste un criterio di distribuzione a livello cronologico delle novelle cioè ogni giorno per tutto un anno intero verrà raccontata una novella la struttura invece richiama i grandi modelli della narrativa come le mille una notte oppure il decameron con alcune differenze in primo luogo manca la cornice che unifica che rappresenta il filo conduttore di tutte le novelle come nel decameron la peste i dieci giovani che si rifugiano nella villa di campagna e la storia di questi dieci giovani che appunto raccontano le novelle o nelle mille una notte la storia di questa principessa che per non essere uccisa dal sultano interrompe il racconto nel momento di massima tensione e quindi poi lo riprende la sera successiva ecco qui invece non è presente nessun criterio che possa spiegare come sono disposte le novelle cioè non c'è un ordine cronologico e neppure un tema organizzatore e quindi si coglie benissimo questa situazione questo paradosso per cui c'è una struttura che in apparenza il solito contrasto tra apparenza e realtà quindi in apparenza potrebbe sembrare organica rigida ma all'interno di questa struttura i racconti sono disposti senza nessuna ordine quindi alla rinfusa e inoltre non c'è una chiave di interpretazione univoca ma le novelle possono essere interpretate in diversi modi quindi significativo e tipico appunto della poetica della visione del mondo di pirandello è il contrasto tra l'apparenza ordine varietà di contenuti che però la realtà questi contenuti non hanno un filo conduttore quindi sono disposti così a caso questa è una allegoria di quello che è la caoticità della vita stessa che è appunto imprevedibile varia passando ora ai temi possiamo ripetere lo stesso la stessa cosa cioè possiamo trovare una unità quindi un qualcosa che rende unite le novelle nella loro varietà infatti possiamo individuare una linea evolutiva anche se parziale per cui si parte da novelle ambientate in sicilia novelle poi ambientate a roma quindi in un ambiente di città e novelle infine fantastiche surreali anche per quanto riguarda la struttura e l'abbiamo già vista con le prime due novelle lette possiamo parlare di una struttura inchiesta cioè questo narratore detective che va indaga per capire i motivi le ragioni di una situazione di vita i temi inoltre sono i quelli propri di pirandello rapporto tra la forma e la vita l'alienazione il relativismo la differenza tra essere e apparire e la critica a tutte le convenzioni borghesi allora analizziamo adesso questa possiamo dire linea evolutiva nei suoi momenti cardine partiamo dalle novelle siciliane qui l'abbiamo già visto pirandello superava oltre il verismo perché a lui interessa la deformazione grottesca dei personaggi allora due novelle che vi suggerisco lettura libera senza nessun vincolo ma proprio per capire questa ambientazione siciliana tra l'altro anche molto belle la prima divertente che vi fa appunto capire meglio la differenza tra l'avvertimento e il sentimento del contrario perché c'è appunto questo ricco proprietario terriero molto avaro attaccato alla sua roba che ha acquistato una giara questa giara si rompe chiama qualcuno uno esperto a aggiustarla ma questo per aggiustarla rimane chiuso nella giara e quindi poi per farlo uscire deve rompere di nuovo la giara ecco qui abbiamo quasi un richiamo all'avarizia di mastro don gesualdo però questa deformazione in senso comico per cui questo don lo lo il proprietario della giara diventa poi una caricatura altra novella molto bella questa anche triste però appunto che richiama il rosso malpelo di verga è ciao la scopre la luna per cui vediamo questo ragazzino minatore che quando esce all'aperto con questo terrore per il buio vede la luna ed è appunto rasserenato da questa visione ecco leggetele sono davvero molto belle poi abbiamo le novelle borghesi e le novelle romane quindi ambientate in città qui per il randello prende di mira la borghesia impiegatizia cioè gli impiegati che svolgono che svolgono sempre lo stesso lavoro abbiamo visto belluca di il treno affischiato questi diventano un po il simbolo della condizione dell'uomo nel mondo le tematiche sono appunto l'oppressione delle convenzioni queste trappole che appunto costringono l'uomo a indossare una maschera a recitare una parte che sono la famiglia il lavoro e la società in genere ecco qui il treno affischiato che abbiamo visto oggi e poi la signora frola e il signor ponza suo genero qui emerge il relativismo a cui si collega la soggettività di ogni conoscenza ecco io vi ho suggerito di guardare di leggere così è se vi pare l'opera teatrale derivata appunto da questa novella infine concludiamo con le novelle fantastiche e surreali dove appunto abbiamo queste atmosfere oniriche cioè da sogno e allegoriche che appunto vogliono evocare le pulsioni irrazionali dell'inconscio tra queste il soffio il protagonista è in grado di uccidere suffiando sul pollice e l'indice uniti e quindi dopo aver seminato la morte alla fine con questo soffio davanti allo specchio e ancora l'emblema la cosa l'oggetto simbolo dello specchio si dà la morte e in tutte le novelle abbiamo appunto questa vita priva di senso che allegoricamente viene resa da queste atmosferiche oniriche cioè da sogno e surreali grazie